Ciao a tutti, qui per dirvi qualche parolina sul nuovo album dei Bon Jovi 2020 Finalmente il primo album dei Bon Jovi da moltissimi anni a questa parte Non perché non siano usciti altri album dei Bon Jovi Ma quelli non erano per me neanche album dei Bon Jovi Perché oltre ad avere il difetto evidente che John Bon Jovi non ha più voce da moltissimi anni ormai Non rappresentavano per nulla l'anima della band La copertina secondo me è davvero brutta e qui stavolta non è per il mio gusto Per l'immagine sfocata, non sfocata, bella non bella Ma ho preso queste Keep the Faith, 5 mani, 5 componenti dei Bon Jovi 5 mani, These Days, 4 componenti qui in bella mostra E qui i Bon Jovi cos'è? Solo lui e gli altri cosa sono? È evidente con questa copertina che i Bon Jovi non sono più una band Ma sono semplicemente John Bon Jovi più altri Venendo alla musica devo dire che è una piacevole sorpresa È il primo album secondo me da The Circle del 2009 Vado a memoria 2008-2009 a questa parte Perché i tre album in mezzo secondo me non erano neanche Album dei Bon Jovi per me proprio Veramente brutti 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 Questo è il primo album che tra l'altro ha una cosa in comune con The Circle Che i punti negativi erano i singoli Secondo me anche in questo album come in The Circle La parte bella è quella che non abbiamo ancora ascoltato Perlomeno quello che non abbiamo ascoltato nei mesi precedenti Perché questo disco sarebbe dovuto uscire tantissimo tempo fa A maggio poi rimandato più volte Tracklist del disco cambiata più volte Dieci tracce è un disco abbastanza snello Anche se in qualche episodio non tanto snello Abbiamo visto i singoli Ci ho fatto dei primi ascolti Qualcuno mi è stato censurato I singoli un po' così così La cosa buona dei singoli è che Insomma la produzione è molto più snella Meno corretti anche se ci sono Meno iperproduzioni Meno campionamenti Meno iperproduzioni Meno tutto È più un'anima rock'n'roll Un disco più rocko rispetto a pop Synth dance Non so come definire Dance no Però un pop proprio Becero Parlo sempre per il mio gusto Sia chiaro Questo disco invece è più semplice La sua voce Per quanto ce ne sia veramente poca È diretta Gli strumenti risultano diretti C'è qualche bel riff C'è qualche bel solo di chitarra Insomma con tutti i difetti del caso È un disco di nuovo Dei buongiorno Bentornati Ho bentornato Ho tolto il video così Leggo la tracklist un po' per parlarvi I singoli sono stati Limitless Che è ok Ma insomma Do what you can È American Reckoning Unbroken Che sono due Semi ballad Che Trovo Troppo Ripetitive Molto interessanti A livello di testi Di denuncia Molto interessanti Però A livello musicale Veramente Allungate Un po' noiose Se posso aggiungere Mentre una bella ballad È Story of Love Migliori di quelle che ho citate Migliori di quelle che sono uscite Come singolo Tra l'altro con un bellissimo 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 Solo finale Solo finale Merita davvero l'ascolto Fatelo E dei pezzi un po' più diretti Come Beautiful Drug Brothers in Arms Soprattutto Lady Rain Che somiglia molto Per molte cose A Blood on Blood Perlomeno a me Non sia una Non lo so Una cover Praticamente Di Joy County In versione afona Con insomma Le capacità Afona no Però Con le capacità attuali Di John Bon Jovi Ma il pezzo È veramente molto bello Ma ne copia Veramente la struttura Senza ovviamente I suoli pazzeschi Di Sambora Anche se Insomma È un pezzo Che non vi deluderà Sicuramente Però se pensate Che insomma È già stato fatto Uno molto simile Veniamo al voto Gli do lo stesso voto Di The Circle Una sufficienza Non è un disco Epocale Ci sono molte tracce Che insomma Anche se non ascolto Va bene così Però è un disco Che ha un senso Una produzione Che ha un senso Con John Che dà Quello che può dare Senza troppi Momenti morti Belle canzoni Insomma Una sufficienza Va bene Questo è quello Che secondo me Possono dare i Bon Jovi E me lo tengo stretto Va bene così Piuttosto che Quelle fetensie Che abbiamo ascoltato Nei lavori precedenti Top tracks Skip track Brothers in Arms Una canzone Che mi ha ricordato Forse Woman in Love Una cosa di Keep the Face Ah quelle vibrazioni di Se li mettete La voce vecchia Di John È una canzone Che potrebbe stare Su quegli album lì Su Keep the Face Blood in the Water Nonostante Insomma Quello che vi ho detto Forse Lady Rain Queste sono le mie Tre preferite Mentre La conclusiva Unbroken Molto interessante Ci ho fatto un primo ascolto Se non ricordo male Molto interessante Però più di sei minuti Per quel tipo di canzone Non finisce mai Questo è il mio parere Sull'ultimo dei Bon Jovi 2020 Per me Promosso Nonostante tutto Con una sufficienza Che vuol dire Ok Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Se lo avete ascoltato Se lo ascolterete O se lo avete ascoltato Quali sono le tracce Che preferite Da me è tutto Ciao a tutti Alla prossima Alla prossima